Quando gli agenti sono arrivati per notificargli l'ordinanza di custodia cautelare in carcere ha finto di sentirsi male. Ha detto di voler prendere un bicchier d'acqua ed invece si è suicidato, gettandosi dalla finestra della sua casa di Roma. Il 43enne pregiudicato era una delle 90 persone coinvolte nell'inchiesta sul clan camorristico Contini. Decine di ristoranti, pizzerie, boutique, aree di servizio tra Napoli, Roma, Firenze e le loro province, beni per 250 milioni di euro, una fitta rete di società in cui reimpiegare i capitali illeciti accumulati in anni di estorsioni e traffici di sostanze stupefacenti e merce contraffatta. Per il clan Contini, uno dei più potenti di Napoli della Renaccia, il quartiere partenopeo di cui sono originari, con a capo Edoardo Contini e Patrizio Bosti, i due boss che avevano messo in piedi l'organizzazione, colpita dall'inchiesta coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e dalle DDA di Napoli, Roma e Firenze. Durante l'operazione, i carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno eseguito 90 arresti e sequestrato beni per centinaia di milioni di euro, immobili, auto di grossa cilindrata, gioielli. Per gli inquirenti, l'inchiesta è la più vasta, realizzata finora sul clan Contini, tra i più potenti d'Italia, con un occhio particolare al reinvestimento dei proventi in imprese ed operazioni economiche sparse in tutto il paese, ma soprattutto in Lazio e Toscana, regione in cui avevano messo radici grazie al legame con la banda della Magliana. Solo a Roma, in pieno centro storico, nei pressi del Panteon di Piazza Navona e di Via del Corso, oltre 20 i locali tra bar e ristoranti sequestrati.